Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Grave incidente stradale intorno alle 20 e 15 di ieri sera lungo la via nazionale. Siamo a Villa di Tirano, all'attezza della stazione di servizio. Ad essere coinvolte due automobili, un Opel Corsa guidata da un settantenne ed un SUV BMW condotto da una 25enne proveniente da Sondrio. In auto con lei una bambina di 8 anni, sorella della conducente. Ad immettersi improvvisamente sulla statale l'auto guidata dall'uomo che, diretto in senso opposto al veicolo condotto dalla giovane, ha invaso la sua corsia di marcia. Fortissimo l'impatto che ha fatto letteralmente carambolare i due mezzi all'interno della carreggiata. L'uomo, nell'auto del quale non sono entrati in funzione gli airbag, ha subito un forte colpo alla testa ed è rimasto bloccato all'interno del mezzo. La 25enne, alla guida della BMW, ha invece riportato una serie di ferite e di taglia alle braccia a causa dell'esplosione dei vetri. In questo caso, i dispositivi di sicurezza dell'automobile hanno fatto sì che i danni riportati non fossero più gravi. Fortunatamente illesa, ma terrorizzata e in preda ad una crisi di pianto, la bambina di 8 anni in auto con la sorella. Immediatamente apparse critiche le condizioni dell'uomo. Il settantenne, secondo le testimonianze visibilmente ubriaco, è stato prontamente soccorso da due infermiere fortuitamente presenti sul luogo dell'incidente, le quali si sono prodigate per sincerarsi del suo stato di salute. Ascoltiamo la testimonianza a caldo dell'artista Cisco Fly, che proprio in quel momento si trovava a percorrere quel tratto di strada. Le immagini che vedete ci sono state fornite da Marco De Giovanni. Questo signore è bloccato nella macchina che sanguinava. Nella macchina della ragazza erano appena uscite. La bambina che piangeva, voglio la mamma. Quello che mi ha dato fastidio, le due macchine davanti a me, di fronte all'incidente, sono andate. Hanno messo la freccia. Cioè, sono andate via. La bambina piangeva. Abbiamo pensato di portare la bambina in un appartamento lì di fronte sulla strada. Cioè, le è andate bene al signore perché due infermiere sono capitati lì. Quindi poi sono riuscite a mettere i guanti e hanno saputo tenerlo. Io cercavo solo di aiutarlo con il braccio, di parlare con lui, distrarlo un po' cercando di aspettare l'ambulanza. Io sono a stemio, non bevo. Ma cavolo, quando bevete, io non so chi beve. Non buttatevi, cioè non guidate. Perché siete un pericolo per voi stessi ma soprattutto per gli altri. Lui veramente è ubriaco. Dopo circa dieci minuti dalla chiamata dei soccorsi, l'arrivo di due ambulanze, dei carabinieri della stazione di Tirano e di un elicottero della Reu, fatto atterrare in un campo adiacente alla strada. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'uomo è stato estratto dalla vettura e dopo i primi accertamenti è stato elitrasportato in codice rosso presso gli spedali civili di Brescia. La 25enne e la bambina sono invece state trasportate all'ospedale di Sondrio, dove la guidatrice è stata ricoverata per accertamenti. Un episodio che ancora una volta lascia riflettere e che non può che alimentare qualche considerazione sulla condotta e sulle abitudini sconsiderate di chi, nonostante un tasso alcolemico evidentemente alto, decide di mettersi alla guida su strade già di per sé piuttosto pericolose. Una strage solo per poco scampata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.